Sindaco Spazzafu, un Natale da vivere a San Mettro del Toro o un grande capolano? Beh, dopo un'estate da vivere passiamo un Natale da vivere. È un cartellone natalizio ricco di eventi. Vorremmo portare sulla nostra città tantissime persone. Abbiamo toccato tutti i vari settori, comunismo, sport, cultura, commercio. Avremo giornate piene di divertimento per tutti, grandi, piccoli. Insomma, ci sarà da vivere un Natale veramente insieme. L'importante sinergia tra i tre settori fondamentali? Ma guarda, con l'arrivo della nuova dirigente è quello che ho chiesto. Ho chiesto la massima collaborazione e massima sinergia su tutte le attività che andremo a occupare dal primo di gennaio, dal cartellone natalizio in poi, perché il lavoro sinergico è quello che poi da aggiornare.